Aldo Farniori, come stanno le cose? Le cose stanno che sono tutte fesserie, perché io sto andando avanti per la mia strada, stiamo selezionando bene il nostro programma proprio perché vogliamo determinare la cosa molto bene. Ai cittadini gli vogliamo raccontare le cose per bene, non le sonzate, perché noi tutte le cose che ci dicono contro ce le freghiamo, si sa che ci dicono le cose contro di noi, perché noi siamo nuovi, siamo giovani, non siamo politici, siamo cittadini di Vairano Patenor e pertanto vogliamo dimostrare che non ci teniamo alla poltrona ma teniamo al bene del paese. Pertanto smentisco categoricamente a oggi 7 febbraio che io mi ritiro dalla candidatura a sindaco. Grazie per la visione! Grazie!